È nato il progetto Coedo, il nuovo portale gratuito di Concarma, un portale che come abbiamo già detto riunirà tutte le associazioni del Valdarno. Concarma però ha studiato una interessante iniziativa proprio in attesa della Carnevale per fare cosa esattamente? Sì, con l'associazione Concarma e con il patrocino del Comune di Filini in Cisa Valdarno organizzeremo per sabato 27 gennaio un laboratorio di Carnevale titolo Mascheriamoci, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni e alle famiglie che vorranno partecipare e accompagnare i bambini in questa iniziativa. Si tratta di un laboratorio dove i bambini realizzeranno proprio in maniera diretta le loro maschere di Carnevale con una caccia al tesoro e verrà premiata la migliore maschera con un cosiddetto premio Arlecchino che è stato appunto nominato per questo evento. È rivolto appunto a quella fascia d'età e per le iscrizioni saranno possibili effettuarli entro il 25 gennaio o contattando l'associazione Concarma al 331 1780 711 o tramite la mail concarma.it e per appunto partecipare c'è un'iscrizione, una quota di iscrizione e tutto appunto per finanziare questo progetto del portale Coedo che stiamo presentando in questi giorni organizzato appunto dall'associazione Concarma, Concoine e le comuni del Val D'Arno. È un primo portale gratuito per tutti i servizi educativi, sociali e culturali appunto dell'associazione del territorio del Val D'Arno. Quindi un'altra iniziativa appunto per portare avanti questo nostro progetto e finanziarlo e arrivare alla cifra disponibile appunto necessaria per il finanziamento del progetto.